Le mie lezioni pongono molto l'attenzione sullo sviluppo del concept che poi verrà tradotto in comunicazione visiva. Il focus quindi del mio corso è proprio questo sviluppo di concept che diventa il cuore di tutto il progetto. Le attività pratiche che vengono svolte nelle mie lezioni partono essenzialmente dalla ricerca e dall'analisi di mercato di primo livello, quindi affrontata su web e di quelle che sono anche delle dinamiche sociali. Una volta finita questa parte viene affrontato la parte invece creativa, quella progettuale. Al fine anche della seconda parte vengono mixate le due ed è il momento di maggior difficoltà perché è come se andassimo a mettere in relazione una parte scientifica con una parte creativa. Terminata anche la parte progettuale quindi si va sulle applicazioni e andiamo sempre ad affrontare il progetto come se fosse veramente commissionato da un cliente. Il triennio che Rufa propone è un triennio che completa una prima parte di formazione. I nostri studenti sono in grado di entrare all'interno del mondo del lavoro, quindi all'interno di agenzie, di strutture più complesse, anche da un punto di vista proprio delle dinamiche, non avendo però a mio avviso quella preparazione che li completa e che invece potrebbero trovare nel biennio. Come per dire che il triennio dà le basi per poter lavorare, ma il biennio, quindi la magistrale, darebbe le basi per poter invece avere dei ruoli più importanti all'interno di agenzie. Il diploma accademico di secondo livello offre una percezione più completa del nuovo modo di comunicare. Infatti si chiama Visual and Innovation Design, dove Innovation appunto sta per descrivere qualcosa che sta all'avanguardia dei nuovi mestieri che stanno nascendo nel mondo. La magistrale, quindi, il compimento dei cinque anni di corso, di formazione, quindi forma gli studenti proprio per aggredire quel mercato nuovo che sta nascendo.